La mobilità sostenibile è uno dei temi più importanti del nostro periodo. Sinclair Remake è stato sviluppato in collaborazione con l'azienda Play Car Car Sharing di Cagliari. Lo scopo di questa tesi è stato quello di riprogettare in chiave moderna un veicolo degli anni 80, il Sinclair C5. Il suo insuccesso e le sue problematiche costruttive sono stati la chiave del mio intervento, avvenuto in particolare su elementi quali il manubrio, la seduta, il cupolino e materiali di scarsa qualità. L'ergonomia del manubrio e della seduta è stata perfezionata. Quest'ultima è stata separata dalla struttura, quindi resa regolabile e ben visibile. Il cupolino è stato rimodellato e reso idoneo ad una pedalata priva di ingombri. Tra i materiali contemporanei figurano PLA e alluminio. Ho ritenuto opportuno utilizzare le Airfree Concept della Bridgestone in funzione della mia filosofia progettuale e per un abbattimento dei costi di manutenzione. Il progetto adotta criteri coerenti con il design for all, fornendo un servizio rivolto alla città di Cagliari e a tutti i luoghi dove la presenza di un turismo nazionale e internazionale è in costante crescita.